Noi giriamo sempre senza scorta, perché la nostra scorta è il rapporto con i cittadini. Lo dico a Salvini che quando si muove, si muove con un plotone di polizia. Detto questo ho saputo, so, ho letto che il ministro Salvini ha chiesto l'esercito. Prima di tutto vorrei capire a chi l'ha chiesto, visto che lui governa, quindi lo chiede a se stesso. Non so, francamente è un problema di dissociazione politica di non poco conto. Ma dovrebbe chiedere all'amministrazione di destra di questa città la ragione per la quale ci troviamo in un degrado di questo genere. Noi abbiamo bisogno di due questioni, anzitutto potenziare le attività di polizia, investigativa, prevenzione e anche repressione sul crimine. Non c'è ombra di dubbio da questo punto di vista, ma c'è un problema molto serio di riqualificazione, di rigenerazione urbana, di riapprovazione di spazi sociali, di far uscire le persone dalle case che hanno paura, in sintesi, e rifar vivere una città in cui in questo posto è totalmente morta. E questo è un delitto, è un qualcosa di totalmente inaccettabile.